Non c'è Greenpeace. Agosto da record per il turismo in Italia. In 13 milioni hanno deciso di andare in vacanza senza varcare i confini. Il mare tra le mete preferite. Cristina Clementi e Isabella Schiavone. Ferragosto sold out in Gargano tra le mete del cuore di questa estate. Per il nostro turismo è il momento di tirare un sospiro di sollievo con 13 milioni di vacanzieri italiani che, secondo un'indagine di CNA, sceglieranno le bellezze della penisola per le ferie di agosto. 3 milioni in più del 2019, anno pre-pandemia. Rimaniamo qui, stiamo bene qui, ci godiamo il nostro mare. È cambiato che siamo amando di più la nostra terra, i nostri prodotti e il nostro territorio. Ospiteremo anche 4 milioni di stranieri. Presenza lontana dal passato ma comunque importante per dare ossigeno soprattutto alle città d'arte. Una stagione intensa ma più breve, rilevano gli albergatori. La fase turistica è sicuramente però più concentrata, è concentrata nei due mesi centrali della stagione estiva. Mare saldo in cima alle preferenze seguito da montagna, terme, laghi e borghi. Bellezze naturali sì, ma anche la curiosità per nuove esperienze. È il nostro primo giorno quindi dobbiamo scoprire un po' ancora tutto. Per un pizzico di dolce vita sono sbarcate nel nostro paese anche molte star globali. Cartoline da capri per J-Lo e Ben Affleck, blitz di Elon Musk nella culla del rinascimento. Visitate a Franza. Ha scelto la Toscana anche Anthony Hopkins, più che un turista straniero, davvero uno di noi. Sono italiano!